Benvenuti al nostro video di astrologia di oggi. Oggi esploreremo le previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacari. Siete pronti per scoprire cosa hanno in serbo le stelle per voi? Allora senza ulteriori indugi, immergiamoci nel meraviglioso mondo dell'astrologia. L'oroscopo del segno Ariete. L'energia dell'amore, rappresentata dalla Dea Venere, si muove attraverso un segno vicino al vostro, quello dei pesci, creando una congiunzione molto favorevole. Questo transito porta a una freschezza mentale e un'anima gioiosa, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. Il sole, simbolo dell'Ariete, brilla anche nello stesso segno dei pesci, amplificando il vostro protagonismo, la vostra cordialità e il desiderio di piacere, oltre alla lucidità intellettuale e il gusto per intrattenere chi vi circonda, che siano amici, parenti o conviventi. Amore. La vostra passionalità è innegabile, ma fate attenzione a non esagerare con comportamenti troppo impetuosi oggi. Fortunatamente, Plutone, il vostro astro guida, si trova in un'angolazione positiva dall'acquario, garantendo un equilibrio, specialmente per coloro tra il 21 e il 25 marzo. Lavoro. Siete abili nel maneggiare computer e navigare sui social media grazie all'influenza positiva di Marte nell'amichevole segno dell'acquario. Questo influsso benefico è particolarmente evidente per gli arieti nati tra il 14 e il 20 aprile. Denaro. Gestite i vostri risparmi con determinazione e lungimiranza, supportati dai consigli competenti di esperti finanziari che vi aiutano a fare scelte oculate. L'oroscopo del segno toro. Il quadro attuale dei transiti è abbastanza positivo per voi. Venere nei pesci porta gioia alla vostra vita familiare e sociale, con la possibilità di riunirsi con parenti provenienti da vicini paesi, che accoglierete con la vostra solita ospitalità. Amore. La giornata promette soddisfazioni soprattutto dal punto di vista passionale, specie per gli uomini toro nati tra il 12 e il 18 maggio, grazie al supporto del sole. Le donne, grazie al sostegno di Saturno nei pesci, potrebbero facilmente conquistare uomini affascinanti. Lavoro. Urano vi offre la possibilità di una programmazione precisa e metodica, specialmente se festeggiate il vostro compleanno tra il 9 e il 14 maggio. Questo vi consentirà di lavorare con meno sforzo e ottenere maggiori risultati, lasciandovi spazio per progetti futuri. Denaro. La presenza della Luna nel vostro segno vi dona abilità nel gestire le vostre finanze, soprattutto se siete nati tra il 25 aprile e il 5 maggio, potendo investire i vostri risparmi in modo fruttuoso, magari in beni immobili. L'oroscopo del segno gemelli. Oggi avrete l'opportunità di organizzare eventi che uniranno vecchi amici e nuove conoscenze. Con Plutone e Marte nel vostro segno amico dell'acquario, il vostro giorno sarà pieno di divertimento e piacere. Ricordate il vostro motto Io mi diverto e cogliete l'occasione per trovare momenti di svago insieme. Amore. Luna, Giove e Urano sono favorevoli per voi oggi, specialmente se siete single. Le avventure sono facilmente accessibili e promettono scintille. Tuttavia, alcuni nati tra il 2 e il 7 giugno potrebbero sentirsi più inclini a inseguire i loro sogni d'amore piuttosto che flirtare. Lavoro. Mercurio dal segno dell'Ariete vi sostiene, soprattutto se siete nati a maggio. Se lavorate nel settore delle comunicazioni e della stampa, avrete una giornata di successo. Oggi è importante mantenere un approccio pragmatico e osservare la propria situazione con distacco. È essenziale liberarsi dalle preoccupazioni recenti e concentrarsi sul futuro. L'oroscopo del segno cancro. Ecco una buona notizia, Venere è di nuovo in gioco. L'amore sarà al centro dell'attenzione. Molti nativi del cancro potrebbero sentirsi inclini a fare acquisti che li rendano felici e soddisfatti, anche se non sono strettamente necessari. È importante gestire con cura le nuove relazioni che si stanno sviluppando. Solitamente usate l'intuito più della logica, ma oggi sarete portati a utilizzare entrambi per trovare soluzioni vincenti ai problemi. La vostra vita familiare appare tranquilla, con parenti che arrivano per una visita. Amore. Le coppie stabili godranno di un momento di ritorno di fiamma, mentre i flirt occasionali sperimentano una profonda connessione emotiva. Lavoro. Se lavorate nell'ambito dell'immagine, dell'arte, della moda o del design, avrete successo. nel raggiungere obiettivi prestigiosi, soprattutto se il vostro compleanno cade tra il 29 giugno e il 5 luglio. Denaro. La congiunzione di luna e giove vi rende fortunati nel gioco, quindi potete provare fortuna con una schedina del totocalcio, soprattutto se siete nati nella seconda decade. L'oroscopo del segno leone. Un bel mercurio in ariete annuncia un momento di positività per voi della prima decade, promettendo di riempire la vostra vita di gioia, di rendervi affabili nelle relazioni e lucidi nelle situazioni di incertezza. Tuttavia, siate prudenti e evitate di creare aspettative eccessive. I nati nella terza decade devono fare i conti con influenze negative di Marte e Urano, che potrebbero ostacolare le loro iniziative più brillanti. Pazienza e attesa saranno le chiavi per il successo. Amore. Se siete indecisi, è il momento di prendere una posizione e agire. Il vostro sentimento è stato compreso e ricambiato, quindi non esitate a fare il primo passo verso la persona che vi interessa. Lavoro. Approfittate della vostra determinazione per risolvere eventuali situazioni in sospeso, specialmente se compiete gli anni nella terza decade. Anche se non siete i capi, siete visti come leader capaci di dirigere le situazioni. Questo atteggiamento vi porterà a ottenere risultati positivi a breve termine. L'oroscopo del segno vergine. La giornata si prospetta tranquilla nonostante il fastidio provocato da Nettuno, che tuttavia riuscite a gestire grazie al vostro equilibrio. Amore. La posizione della Luna, Giove e Urano nel sensuale segno del toro porta passione e sensualità nella vostra giornata. Potreste vivere incontri coinvolgenti che risvegliano nuove curiosità in voi. Lavoro. Proseguite per la vostra strada senza preoccuparvi se alcune questioni restano irrisolte al lavoro. Non vale la pena combattere con situazioni che sembrano troppo grandi per voi, specialmente se siete nati nella seconda decade. Con il tempo, tutto si sistemerà e otterrete il successo desiderato. Denaro. Potrebbero sorgere piccoli problemi familiari legati al patrimonio, ma la vostra pazienza e saggezza vi aiuteranno a risolverli prima del previsto. Secondo l'oroscopo odierno, si prospetta un periodo estremamente fruttuoso, soprattutto sul fronte professionale. Indipendentemente dalla situazione attuale, le prossime settimane potrebbero portare nuove opportunità, clienti inaspettati, un aumento delle entrate e la stipula di nuovi contratti. L'oroscopo del segno bilancia. Sebbene di solito non amiate essere al centro dell'attenzione, oggi potrebbe piacervi mettervi in mostra e partecipare a eventi mondani come mostre d'arte, vernissaggi e presentazioni culturali. Le stelle promettono un'energia positiva che vi accompagnerà in varie situazioni, grazie all'influenza benefica di Marte. Amore. Con il vostro partner, troverete una piacevole sintonia su diversi aspetti della vita, dall'affrontare le questioni più semplici a quelle più complesse. La vostra ricerca di completezza non si limita solo al cuore e ai sensi, ma coinvolge anche mente e anima. Grazie a Marte in acquario, riuscirete a superare piccoli ostacoli emotivi e a ritrovare quell'armonia di coppia che tanto amate. Lavoro. Di fronte a comportamenti autoritari, mostrate la vostra determinazione, difendendo la giustizia con logica e intelligenza, come Saturno vi ispira. Mostrate il vostro lato forte e non lasciate che nulla o nessuno vi scalfisca sul luogo di lavoro. Il vostro impegno sarà ricompensato con il riconoscimento da parte dei colleghi e dei superiori. L'oroscopo del segno Scorpione. L'andamento planetario oggi è moderatamente positivo e bilanciato. Saturno, Nettuno, il Sole e Venere sono dalla vostra parte, mentre Urano, Giove, Plutone, Marte e la Luna vi mettono alla prova per aggiungere un po' di pepe alla vostra vita. Certo, ci sono anche due pianeti sconosciuti che potrebbero influenzare il quadro astrale in modi imprevedibili. Amore. L'armonia romantica tra Venere e Nettuno nei pesci vi regala momenti di intensa partecipazione emotiva, soprattutto se appartenete alla prima decade. Anche chi ha iniziato una nuova storia recentemente vivrà momenti indimenticabili. Lo Scorpione non è solo passione ed Eros. La dolcezza e la tenerezza sono parte integrante del vostro essere, come dimostrerete al vostro partner oggi. Lavoro. Contribuite con dedizione alla crescita della vostra azienda, ottenendo il plauso e il riconoscimento dei superiori. Solo i nati in ottobre potrebbero sentirsi un po' sotto pressione, ma è solo temporaneo. Denaro. Giove e Luna potrebbero rendervi distratti nella gestione delle finanze, quindi limitatevi a transazioni essenziali e spese necessarie per il momento. L'oroscopo del segno sagittario. Oggi è una giornata in cui dovrai affrontare un'atmosfera negativa, con Nettuno e Venere che influenzano il segno dei pesci contemporaneamente. Potresti sperimentare momenti di confusione e lapsus, ma nulla di cui preoccuparti troppo. Fortunatamente, Mercurio in Ariete ti darà la forza di resistere e neutralizzare le influenze negative esterne. Amore. Se sei un sagittario single, potresti trovare affascinanti passioni stravaganti, senza preoccuparti troppo delle peculiarità delle persone che incontri. Per le relazioni consolidate, potrebbe esserci un po' di stanchezza, ma la tua affettuosità prorompente renderà tutto superabile. Lavoro. Oggi è importante gestire il tuo tempo e le tue ore di lavoro con attenzione. Alcune decisioni potrebbero non essere ottimali, specialmente se il tuo compleanno cade tra il 4 e il 9 dicembre. Denaro. Il tuo carattere sportivo e competitivo può essere stimolato oggi, magari con una giocata al totocalcio con gli amici. Mercurio ti promette non solo divertimento, ma anche buone occasioni di vincita. L'oroscopo del segno capricorno. I movimenti planetari di oggi sono influenzati da Saturno nei pesci, un transito che porta fortuna al capricorno. Questo pianeta ti dona razionalità, senso del limite e adattabilità alla realtà, soprattutto se sei nato tra il 29 dicembre e il 5 gennaio. Amore, la passione continua a prevalere nel tuo settore emotivo. Venere dai pesci revitalizzerà il tuo sex appeal e smuoverà anche i cuori più duri. Solo per i nati nell'ultima decade, l'aspetto positivo di Urano porterà ad un adattamento alle esigenze del partner. Lavoro. Sarai chiamato a difendere le tue prerogative con determinazione oggi, soprattutto se sei nato tra il 16 e il 20 gennaio. Anche se preferisci la diplomazia, potresti trovarti coinvolto in uno scontro diretto. Denaro. Con Luna, Giove, Venere e Urano favorevoli dal toro, potresti godere di una cospicua fortuna al gioco, se decidi di provare. Resistere alla tentazione sarà difficile, ma dipenderà da te. L'oroscopo del segno acquario. Sotto l'influenza vivace di Marte, che brilla nel vostro segno, sentirete risplendere la vostra natura più affascinante, quella tipicamente acquariana, socievole, frizzante, e piena di vita. Oggi sarete come camaleonti, capaci di intrattenere chi vi circonda, che siano amici, familiari o conoscenze. La vostra mente sarà fresca e pronta a lanciare battute irresistibili. Tuttavia, con Urano in posizione contraria, soprattutto per coloro nati nell'ultima decade, è saggio non eccedere nei piaceri enogastronomici. Amore. Il favore di Venere e Plutone vi sorride oggi, i due grandi fautori dell'armonia emotiva e dell'amore, capaci di accendere la scintilla della passione. Marte, complice dalla vostra costellazione, vi sostiene nel vostro romanticismo. I successi romantici saranno particolarmente significativi per coloro nati nella prima e seconda decade, che dovranno scegliere tra molte opzioni. Lavoro. Mercurio, Saturno e Marte vi agevoleranno nel lavoro, aiutandovi a superare ostacoli iniziali. Con determinazione lucida, riuscirete a indirizzare le situazioni come desiderate. Denaro. State attenti alle spese in questa metà di marzo. Giove e la Luna, dal toro, potrebbero confondere le vostre decisioni finanziarie. L'oroscopo del segno pesci. Oggi si apre una nuova fase ricca di opportunità dorate, offerte interessanti, nuovi contatti e conferme, nonché risposte tanto attese. Sul fronte lavorativo, è fondamentale cogliere ogni opportunità che si presenta. Un'epoca astrale favorevole vi sorride con tutti i pianeti che vi guardano con benevolenza. Tuttavia, non lasciatevi distrarre eccessivamente oggi dai vostri pensieri, mantenendo il controllo su voi stessi per non smarrire la rotta. Amore. Sotto l'influenza di Plutone e Marte dall'acquario vicino, le relazioni di coppia avranno un tono giocoso. Adattatevi e godetevi questo clima, anche se le cose non procedono come previsto con il vostro partner. La vostra capacità di seduzione sarà in evidenza, specialmente per coloro nati nella prima e terza decade. Lavoro. Prendetevi un momento di relax se ne avete bisogno. Anche se i vostri superiori possono essere esigenti, voi riuscirete a mantenere il vostro equilibrio, soprattutto se appartenete alla seconda decade.